Un'aggressione barbara perpetrata con violenza feroce, quella in cui è rimasto ferito seriamente un commerciante gelese la scorsa notte. Un assalto improvviso quello subito dall'esercente, titolare di una pizzeria che si trova nel centro di Gela. Gli aggressori lo hanno sorpreso mentre stava rincasando e gli sono piombati addosso iniziando a sferrare ripetuti colpi di spranga sull'uomo. Una scena terribile alla quale hanno assistito anche la moglie e la figlia del commerciante che dopo aver sentito le gride e i rumori della colluttazione sono accorse e hanno poi chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i carabinieri e i soccorritori del 118. Le condizioni dell'aggredito sono apparse subito serie per via dei colpi alla testa che secondo quanto emerso finora hanno causato all'uomo un trauma cranico. I medici hanno disposto il trasporto all'ospedale Villa Sofia di Palermo dove l'uomo è adesso ricoverato in prognosi riservata. I militari dell'arma stanno adesso cercando di ricostruire la dinamica dell'accaduto e soprattutto c'è da capire quale sia il movente alla base di un gesto del genere.